Il nostro dovere oggi è quello di essere dei cittadini consapevoli e questa consapevolezza deriva dal fatto che conosciamo com'è andata. Dal momento in cui noi sappiamo che alcune premesse hanno portato delle conseguenze disastrose per tutta la società europea e poi mondiale da un certo punto di vista, oggi noi abbiamo meno scuse per poter incorrere in altri errori. Noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che non possiamo più sbagliare e credo che questo lo dobbiamo dare anche ai giovani, questo tipo di consapevolezza. Grazie a tutti.